La società FC Bassano 1903 comunica di aver raggiunto un accordo con i giocatori Riccardo Baggio e Michele Marchioronna. Riccardo Baggio, difensore classe 87, cresciuto nelle giovanili del Bassano Virtus, ha fatto esperienza all'Este in Serie D, alla Feralpi Salò in Lega Pro e ha disputato le ultime stagioni alla Sacilese, all'Alto Vicentino, alle Clisse, Careni, Pievigina e alla Luparense, prima di approdare alla Prodeco Calcio Montello da cui proviene. Michele Marchioronna, difensore classe 96, Cresciuto nel Bassano Virtus nel 2015-2016 va in prestito alla Clodiense che a metà stagione lo gira alla Summania. Nel 2016-17 passa al Camisano e la stagione successiva all'Hongare dove ha giocato anche la scorsa annata.